13.695. Ancora una volta il fisco. La promessa del taglio delle tasse è l'epicentro della campagna elettorale. Nonostante l'invito del capo dello Stato alle forze politiche affinché presentino proposte concrete a prevalere sono gli slogan per sedurre l'elettorato. Silvio Berlusconi si dice pronto a seguire ed imitare la riforma fiscale non importabile di Donald Trump e contemporaneamente torna ad attaccare Romano Prodi per le modalite di ingresso nell'euro che, secondo il leader di FI, hanno dimezzato i redditi e i risparmi degli italiani. Un'accusa a cui Prodi replica definendo surreale la critica del cavaliere. Ricordando che fu proprio il governo presieduto da Berlusconi. Nel 2002, a non voler gestire quella fase come avvenne in tutti gli altri paesi non istituendo le commissioni di controllo n. Il sistema del doppio prezzo. In lire e in euro. Per non scontentare il suo elettorato. Rischio instabilito per l'Italia corsi e ricorsi storici. Come lo scontro sull'Imu. Con Matteo Renzi che rivendica l'abolizione dell'imposta sulla prima casa e la forzista Mara. Carfagna che a sua volta ricorda che fu il governo Berlusconi nel 2008 a cancellarla. Ma siamo solo alle battute iniziali. La rivoluzione fiscale. Con la flat tax. Sarà al centro della campagna del centrodestra. Mentre qualcuno favoleggia noi il fisco lo stiamo cambiando davvero. Ribatte il vice segretario del PD Maurizio Martina con riferimento all'accelerazione dei rimborsi. IVA alle imprese. Sullo sfondo il timore per quel chiaver dopo il voto del 4 marzo Perch come sottolinea. L'osservatore romano l'instabiliti il rischio maggiore per l'Italia. Il sole 24 ore ha sentito tre esponenti dei principali schieramenti che si affronteranno il 4 marzo. Giampaolo Galli. PD. Boccia la proposta del centrodestra di una aliquota unica sul reddito. Flat tax. È inviata a presentare proposte realistiche che non facciano lievitare il G elevato debito. Pubblico italiano. Di parere opposto Daniele Capezzone. Noi con l'Italia. Secondo il quale è uno shock fiscale possibile e si può finanziare con taglia alla spesa. Il senatore dell'M5 San Nicola Morra. Infine. Difende la proposta di un reddito di cittadinanza che. Afferma. In una prima fase può essere anche finanziata in deficit.